Io ho ancora e solo una domanda da fare. Chi ha ucciso Pasolini? Chi non ha fermamente voluto si sapesse chi ha ucciso Pasolini? Per l'Italia si vuole chiudere il caso Pasolini come un caso corrente e esemplare. In altri termini l'omosessualità porta al crimine. E esistono occasioni simili come quelle di usare il nome di Pasolini per ribadire questo concetto, esistono molto raramente. E gli italiani non se lo sono fatti sfuggire.